I servizi offerti da una convenzione siglata fra Confesercenti e Poste Italiane agli operatori del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Potenza associati alla Confesercenti sono stati illustrati in una conferenza stampa. Tra gli obiettivi principali c'è il superamento del gap con il resto dei comparti commerciali d'Italia che vede la provincia di Potenza al penultimo posto per dotazione di apparecchi di pagamento elettronico. Di qui l'impegno della Confederazione a promuovere l'ammodernamento delle aziende commerciali per utilizzare al meglio le nuove tecnologie. La prospettiva per la microimpresa in questo caso è incominciare a stare in un sistema di imprese organizzate che usufruiscono di questi servizi che è Poste Italiane, oltre che prodotti, ma innanzitutto servizi. Forte, fortissima attenzione alle piccole e medie imprese dove in questo momento devono assolutamente trovare sostegno dalle grandi aziende come la nostra e trovare anche modalità veloci, quindi economiche di servizi per ritornare velocemente sul mercato con prodotti e con qualità quali sono quelle delle piccole e medie aziende italiane.